Ciao e benvenuto in questo video tutorial in cui imparerai facilmente le regole dell'Isola del Tesoro, in cui sarai un pirata alla ricerca del tesoro nascosto nel misterioso arcipelago delle infinite isolette, che nascondono draghi marini, isole tropicali ottime per una vacanza o aiuti inaspettati. Potrai giocare l'Isola del Tesoro nella versione percorso o nella versione in seguimento, che verranno entrambe spiegate in questo video. Inoltre, alla fine, troverai anche la spiegazione della regola opzionale Fuoco alle polveri. Ma adesso scopriamo come funziona. E come ogni gioco della Red Glove, si riassume in tre semplici passaggi. Tira il dado, muovi il tuo galeone e scopri cosa ti aspetta. Lascia nella scatola il forziere e la tessera a prodo del pirata, perché non serviranno. Formerai un percorso con le altre tessere, mettendo all'inizio la tessera Covo dei Pirati e alla fine la tessera Isola del Tesoro. Mischia a faccia in giù tutte le altre tessere Isola e forma un percorso partendo dal Covo dei Pirati fino all'Isola del Tesoro, dandogli la forma che più ti piace, dritta, a spirale o magari a serpentello. Ogni giocatore, poi, sceglie il galeone nel suo colore preferito e lo posiziona sulla tessera Covo dei Pirati. Il giocatore più piccolo, che sarà il primo giocatore, prende il dado e sei pronto per iniziare. Vediamo ora le regole per la versione percorso. Il gioco si svolge in turni e in senso orario, dove al tuo turno prendi il dado e lancialo. Quindi muovi il tuo galeone in avanti di tante isole quanto è il risultato del dado. Se capiti su un'isola a faccia in giù, scoprila e applica negli effetti. Se c'è scritto non succede niente, il tuo turno è finito. Se invece l'effetto ti sposta su una nuova tessera Isola che è a faccia in giù, scoprila e applica nell'effetto. Continua così finché non trovi una tessera non succede niente o finché non ritorni su una tessera in cui sei già stato in questo turno. In entrambi i casi il galeone rimane su quell'isola e tocca al giocatore successivo. Vediamo un esempio. Simona tira il dado e ottiene due. Muove il suo galeone giallo e finisce sull'isola del Gran Caimano. Questa la fa retrocedere di uno, finendo però sull'isola dei pappagalli Porta Fortuna, che le permettono di spostare il suo galeone sull'isola dove è presente il primo giocatore. Su quest'isola non succede niente. Simona si ferma e passa il turno. È il turno di Federico, che lancia il dado e ottiene un 1. Muove il suo galeone rosso e scopre l'isola. È un'isola del faro, quindi si muove di uno spazio avanti. Ma la successiva è l'isola del Gran Caimano, quindi deve tornare di uno spazio indietro. Siccome è già stato sull'isola del faro in questo turno, si fermerà lì. La partita termina quando un giocatore sposta il suo galeone sulla tessera Isola del Tesoro in fondo al percorso. Ma attenzione, devi arrivarci con un tiro di dado preciso. Altrimenti devi retrocedere del valore in eccesso. Ma se vuoi, puoi decidere che non serve un tiro esatto e in questo caso la partita sarà anche più breve. Vediamo la preparazione per la versione in seguimento. Rimuovi dal gioco le due tessere Fortezza che non verranno utilizzate in questa versione. Tieni da parte le tessere Isola del Tesoro e Aprodo del Pirata Vittorioso. Quindi prendi la tessera Covo dei Pirati e mettila sul tavolo all'inizio del percorso che andrai a creare. Prendi le tessere Isola rimanenti e mescolate a faccia in giù. Mettine 10 a faccia in giù sul percorso e tienine altre 10 da parte sempre a faccia in giù. Mescola invece nelle altre che non hai ancora preso la tessera Isola del Tesoro e mettile sul percorso a faccia in giù. Infine prendi le 10 tessere messe da parte precedentemente e completa il percorso mettendo alla fine l'approdo del Pirata Vittorioso. Ogni giocatore prende il galeone nel suo colore preferito e lo mette sopra il covo dei pirati. Quindi il giocatore più piccolo che sarà il primo giocatore prende il dado e si inizia a giocare. Adesso vediamo le regole per la versione in seguimento. Il gioco si svolge come abbiamo visto finora. Lancia il dado, muovi il galeone di tanti spazi quanto indicato dal valore del dado, scopri e risolvi la tessera. Ma in questa variante puoi scegliere di muoverti avanti oppure indietro. Il primo giocatore a scoprire l'Isola del Tesoro prende il forziere e lo mette davanti a sé. Il suo obiettivo per vincere la partita sarà quello di arrivare con il forziere all'approdo del pirata vittorioso. Se con un movimento passi o ti fermi sopra il galeone dell'avversario che ha il forziere, puoi decidere di sottrarglielo. Lanciate entrambi il dado e chi ottiene il valore maggiore prende il forziere. In caso di parità ritirate fino a che non c'è un vincitore. A prescindere dall'esito puoi terminare il tuo movimento. Vediamo un esempio, è il turno di Simona che ha lanciato un 3 e quindi sposta il suo galeone. Passando per l'isola dove si trova Federico, può decidere di sottrargli il forziere. Entrambi quindi lanciano il dado e Simona che ha ottenuto il risultato maggiore riesce a prenderglielo. A questo punto può continuare il suo movimento. Aveva lanciato un 3 e le emane quindi un movimento da fare. Il primo giocatore che con un lancio di dado preciso arriva insieme al forziere all'approdo del pirata vittorioso vince la partita. Vediamo la regola opzionale, fuoco alle polveri. Questa regola opzionale che potete decidere di aggiungere all'inizio della partita vi permette di scatenare una violenta zuffa a suon di cannonate quando termini il tuo movimento sulla stessa tessera di un altro giocatore. Lanciate entrambi il dado rilanciando in caso di parità e chi ha il risultato maggiore vince la battaglia. Il giocatore sconfitto deve spostare il suo galeone di uno spazio indietro, attivando l'effetto dell'isola su cui si è appena posizionato. Se in seguito a degli effetti delle isole ritorni su quell'isola dove c'è appena stato lo scontro, non effettuarne un altro. Utilizzare questa regola nella versione in seguimento, con un tiro più alto durante lo scontro, oltre a rubare il tesoro, rimandate indietro di una casella il giocatore che lo possedeva. Ora sai come si gioca all'isola del tesoro e sei pronto per giocare. Grazie. 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 Grazie.